Edifici Mondo se ne parla tanto talvolta anche a sproposito, a volte male. Replica così l'assessore all'urbanistica Mimo De Maio, chiamato in causa dal consigliere comunale di Salerno di Tutti, Gian Paolo Lambiase, che nei giorni scorsi affermava di un uso improprio dei fondi europei destinati alla riqualificazione del centro storico necessario anche al recupero delle ex carceri che furono impegnati in parte per la costruzione di Piazza della Libertà. Il complesso degli edifici Mondo è un insieme di edifici situati nella parte alta del centro storico di Salerno strutture, quale l'ex carcere femminile e il complesso di Sant'Antonio, che ad oggi risultano totalmente abbandonati. Ne parla tanto e qualche volta sinceramente se ne parla anche a sproposito, ho avuto modo di ascoltare un'intervista, un pensiero rassegnato dal collega Lambiase rispetto ad un'iniziativa che si è svolta qualche giorno fa verso l'archivio di Stato appunto sul tema degli edifici Mondo, all'interno del quale ho dato il quadro della situazione rispetto a questi immobili e qualche giorno dopo c'è stata questa posizione del consigliere al quale molto probabilmente si rappresentava perché avessi detto molte fesserie, non avendo il comune la proprietà di questi immobili, perché la proprietà di questi immobili, i compendi dell'ex carcere maschile e ex carcere femminile, traono origini da questo atto di compravendita tra De Manio e Comune di Salerno del 1998 e poi nel 2000 un atto integrativo fu sottoscritto tra Comune e Agenzia del De Manio dove appunto in una clausola, lettera A, l'articolo 4 della legge dell'epoca della 579 del 1993, sanciva quali fossero i motivi per determinarne la decadenza di questo contratto, il fatto che non ci potesse essere più di dieci anni, il fatto che non potevano esserci funzioni diverse da quelle originariamente individuate che erano funzioni sociali per l'infanzia e la vecchiaia che sinceramente sono stati queste funzioni, gli elementi che non hanno consentito in questi anni di poter trovare l'opportunità di una rifunzionalizzazione di questi contenitori. Chiaramente sulla scorta di questa lettura, anche abbastanza secondo me superficiale da parte del consigliere, lui ha detto che ha affermato di cui aveva detto delle cose non vere perché non sono nella disponibilità, purtroppo gli devo far presente, se avesse avuto all'educazione perlomeno di rapportarsi un attimo con l'assessore di riferimento, la mia porta aperta a tutti, avrei potuto farlo tranquillamente anche lui, bastava fare un approfondimento sull'interlocuzione che comunque in tutti questi anni c'è stato col De Manio, tant'è che il De Manio nel gennaio del 2019 quando abbiamo ripreso i ragionamenti con l'agenzia del De Manio ci dice, si ribadisce che la clausola invocata attribuisce al contraente, cioè al De Manio, il diritto potestativo della risoluzione del contratto, cioè deve essere il De Manio che dice ok guarda per me è finita questa vostra titolarità di questo bene, cosa che non si è verificata e quindi non può essere pronunciata d'ufficio. Informazioni distorte e non informate per l'assessore De Manio anche quelle diffuse nei giorni scorsi sul doppio senso di circolazione lungo via Benedetto Croce. Non c'è un richiamo vantaggioso sul traffico nello studio redatto dall'Università degli Studi di Salerno. Beh ho letto un po' anche questa ennesima polemica sui giornali relativamente, io vorrei dire per correttezza che siamo nella fase di pubblicazione del piano generale del traffico urbano, scadranno 22 di novembre i termini per le eventuali osservazioni. In linea di massimo nello studio che ci è stato rassegnato dove vengono fatte le matrici per individuare gli vantaggi e gli svantaggi di eventuali dispositivi non c'è questo richiamo a questa soluzione vantaggiosa per il flusso della mobilità, però aspettiamo la fine di questa fase per le osservazioni che possono fare chiunque, anche gli stessi consiglieri comunali, associazioni di categorie, singoli cittadini, per poter fare una valutazione complessiva. Nelle more però anche le informazioni che sono state rese dagli organi di stampa qualche giorno fa sono del tutto francamente infondate, basterebbe chiamare direttamente agli operatori, cioè coloro uguale, l'Università nel caso specifico che ha redatto e elaborato lo studio per avere conferme in tal senso.